Richard Mill Sport, l'orologiaio dell'eccellenza sportiva. Richard Mill è un imprenditore audace che da oltre due decenni sfida le grandi case dell'orologeria proponendo modelli che regalano sorrisi e vittorie a coloro che decidono di indossarle. Inoltre, la filosofia di Mill è quella di creare orologi che non solo esprimano funzionalità eccezionali ma anche estetica innovativa. Modelli iconici Richard Mill 67-02 L'atleta olimpico Wade Van Nijkerk ha infranto il record mondiale dei 400 metri durante le Olimpiadi di Rio del 2016 indossando un Richard Mill RM 67-02. Questo sottolinea l'incredibile leggerezza e resistenza di questi orologi, in grado di resistere alle condizioni più estreme senza perdere imprecisione. Richard Mill 50-03 McLaren F1 Il Richard Mill 50-03 McLaren F1 è un orologio costruito in 75 esemplari con un materiale speciale che lo rende, pesante, solo 40 grammi. La realizzazione di questo esemplare è avvenuta in collaborazione con McLaren, il team di Formula 1 che ha dato corpo, con materiali e tecnologie d'avanguardia, a questa visionaria creazione di Richard Mill. Richard Mill 027 Richard Mill ha realizzato anche il primo orologio con tourbillon progettato per resistere agli urti di una partita di tennis. È stato un grande successo per Richard Mill, dimostrare che l'alta orologeria e lo sport possono andare di pari passo. RM Up 01 Ferrari Nel 2021, Ferrari e Richard Mill hanno unito le forze per creare una partnership a lungo termine, guidati dalla comune ricerca della perfezione. Questa collaborazione è stata celebrata da Richard Mill con la creazione di un eccezionale orologio ultrapiatto, noto come l'RM Up 01 Ferrari. Con uno spessore di soli 1,75 mm, l'RM Up 01 Ferrari rappresenta un trionfo di abilità tecnica e incarna un nuovo approccio all'arte dell'orologeria, in cui la tecnicità è la forza trainante della bellezza. L'RM Up 01 Ferrari è un capolavoro di ingegneria e design, un orologio ultrapiatto che rappresenta l'incontro tra l'arte dell'orologeria di Richard Mill e i valori di eccellenza della Ferrari. Questa collaborazione è una testimonianza dell'impegno di entrambi i marchi verso la perfezione e l'innovazione. In conclusione, Richard Mill è una figura di spicco nell'industria degli orologi sportivi di lusso, con una visione unica che combina audacia, innovazione tecnica ed estetica sofisticata. Le sue creazioni sono testimoni della dedizione all'eccellenza sportiva e rappresentano l'apice dell'orologeria svizzera contemporanea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.